Wow, davvero non sospetta niente. Ehi, vuoi fare la doccia con me? Certo. Sarà uno spettacolo da urlo, come essere uno dei Daft Punk. Guarda, ho trovato questa vecchia tastiera a caso del 1980. Guarda che succede quando premo il tasto demo. Ehi, Daft Punk, bel pezzo. Ecco un Grammy. Sai, è buffo. Prima che parlassi non sapevo che è francese.